Allora, entri la grande Bella Ma per i 20 punti bonus di oggi, abbiamo... Bella Ma, Bella Ma, Bella Ma, Bella Ma Anche la Martucci, Laura Cirilli, Raffaella De Gregorio, che succede? Hai condotto la puntata numero 300! Ma chi se ne ricordava? Ma che bello! Grazie, ragazze, grazie, grazie di cuore! La crescente tesi, la si dice, eh? La crescente tesi! Puntata di Bella Ma! Mamma mia, chiuderemo il 3 maggio e poi ci daremo appuntamento nella prima serata del 30 maggio con Bella Raidu e poi dal 9 settembre la terza edizione, allora siete bellissime insieme, Raffaella De Gregorio, Laura Cirilli, Angela Martucci A chi è la grande Bella Ma oggi? A chi vanno i 20 punti bonus? Alessia! Alessia Torrella, generazione Z e quindi Vestuccia? Allora, la vincitrice della puntata di oggi è Alessia! Alessia, complimenti! Un commento veloce! Volevo fare gli auguri a mio padre perché oggi è il suo compleanno Oggi è una giornata per... come si chiama tuo papà? Come si chiama? Giuseppe Giuseppe, come è mio papà? Si chiama? Giuseppe, hai una figlia meravigliosa! Complimenti a Walter Pignucci! Allora, Sofia, Melanie, Rosa, Federica, dov'è? Si è fatta male! Dov'è? Ah, si è fatta male? Ma veramente? Ma guardate, ballando? La garrà? Sai quante ballerine hanno avuto dei problemini tecnici pur di raggiungere i loro obiettivi? Sono, diciamo, gli piccoli incidenti del mestiere Voglio dirvi che oggi qui è nato il nostro corpo di ballo Nel prossimo anno E sono Federica Russo Che è in infermeria Rosa Sorrentino Sofia Carollo Melania Chieri Coordinate dal nostro Giampiero Giancarelli Rosanna Maudetti Maria Giovanna Elmi Mi danno appuntamento a martedì Questo è il clima di Bella Ma Vi aspetto